Ci troviamo a Bruxelles, 150 giovani dell'Italia dei Valori sono qui venuti per conoscere da vicino le istituzioni europee, per ispirare un po' d'Europa, quell'Europa che noi abbiamo bisogno di riportare a casa nostra in Italia, perché dopo 20 anni di berlusconismo, dall'annunciata rivoluzione liberale che doveva rompere le maglie del corporativismo italiano, invece l'Italia si trova in ginocchio, ancora vessata da caste, oligarchie, corporazioni che spesso limitano anche l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani. E allora siamo venuti qui a prendere le energie adatte per ritornare in Italia e lanciare una sfida liberal-democratica. Noi ce la faremo, i giovani dell'Italia dei Valori sono pronti a questi, vogliono un paese moderno, progressista, che guardi all'Europa e si scrolli di dosso il Novecento.